se la gente sapesse cosa c'è sotto questa scuola adesso sono pronto non c'è più niente da trovare qui no 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 aiuto no 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 oh mio dio Metti questo! Adesso sto bene. Mi scudo. Oh, signore. Non c'è più niente da prendere. Non c'è più niente da prendere. Oh. Sì, che fai. Non c'è più niente da prendere. Iniziamo a prendere. Non c'è più niente da prendere. Perché non c'è più niente da prendere. Non c'è più niente da prendere. Non c'è più niente da trovare. Non c'è più niente da prendere qui. È inutile. Non c'è più niente da prendere qui. 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 È inutile. Non c'è più niente da prendere qui. Non c'è più niente da prendere qui. Non c'è più niente da prendere qui. È inutile. Funziona. Non c'è più niente da prendere qui. Non c'è più niente da trovare qui. C'è più niente da prendere qui. Fridman sta tornando. Stai bene. Hai una faccia strana. Sarò molto meglio fuori di qui. Avanti presto. non c'è più niente da prendere qui. E' così anche voi siete stati catturati. non c'è più niente da prendere. Non c'è più niente da prendere qui. Allora c'è più niente da prendere qui.